Io credo che non si possa lavorare in un luogo come la biblioteca se non c'è una passione profonda è un profondo convincimento, un luogo a servizio della comunità e un bibliotecario deve avere passione per questa funzione della biblioteca. Secondo me in una biblioteca quello che non deve mancare è un certo tipo di atmosfera un'atmosfera fatta di accoglienza, di serenità, offerta, di senso di casa e di appartenenza chi entra in una biblioteca deve sentire che roba sua, che gli appartiene, che è un bene comune Quando ho iniziato a lavorare, ormai insomma parecchi anni fa, io non sono trentina per cui per me la biblioteca è stato da subito il sistema bibliotecario trentino inteso proprio come struttura che consente alcune cose che altrove non sono possibili Oggi la possibilità per gli utenti, anche nelle comunità insomma più piccole di poter comunque accedere a un patrimonio documentario che conta milioni di documenti di poterlo fare ancora gratuitamente e in tempi molto molto veloci insomma è qualcosa a cui rischiamo di esserci un po' abituati forse e di non cogliere fino in fondo la rilevanza Ecco, mi piacerebbe tanto che la biblioteca potesse contribuire soprattutto in un momento come questo che è oggettivamente complesso e difficile a una crescita culturale sulla cifra della gentilezza Per me la biblioteca è buona parte della mia vita insomma non solo perché sono qui da trentun anni abbondanti ma anche perché la mia passione sono i libri e la montagna e quindi ho la fortuna incredibile davvero mi stupisco quasi ogni giorno insomma di questa cosa di lavorare assecondando le mie passioni principali non saprei immaginarmi un altro lavoro sicuramente La chiamiamo biblioteca in realtà forse è qualcosa di più o di diverso nel senso che abbiamo adiacente l'archivio storico della SAD l'archivio istituzionale ed altri archivi fatti di fondi di persone prevalentemente alpinisti che ci hanno lasciato il loro materiale materiale diciamo cartaceo, fotografico ma anche oggetti e attrezzature alpinistiche quindi ci sono tutte queste serie di, chiamiamoli documenti anche gli oggetti che dialogano tra di loro e questi li utilizziamo anche per gli incontri solitamente con le scuole oppure con associazioni per mostrare come magari da uno scarpone o da uno sci si può arrivare a una monografia o una fotografia o un documento cartaceo e in questo modo avere l'opportunità di raccontare una storia credo che un po' tutti o molti soffriamo di spazi le biblioteche continuano a crescere sono un animale che continua ad aumentare insomma spazi fisici ma anche non solo quindi ragionare in ordini di terra per archiviare documenti fotografie, immagini soprattutto da rendere fruibili anche come si è visto durante la pandemia a distanza noi abbiamo lavorato moltissimo in questo senso questo forse potrebbe essere una parte del futuro della nostra professione mi piace dire che la biblioteca può essere considerata una sorta di piccola repubblica democratica in cui tutti sono appunto accettati allo stesso modo e ci sono valori come la tolleranza, la partecipazione, il rispetto in cui tutti appunto possono partecipare in base alle proprie capacità e ai propri interessi senza alcun tipo di discriminazione di ogni sorta una biblioteca può avere il patrimonio migliore del mondo ma senza la propria utenza quindi diciamo le persone che vengono e ne esufruiscono è solo diciamo un semplice edificio con del materiale e basta nel mio lavoro di bibliotecaria sicuramente mi piace molto e trovo molta soddisfazione in quei servizi in quei compiti che hanno a che fare appunto con la valorizzazione del patrimonio sia per esempio la cosiddetta aggiunta copia o catalogazione o sia anche per esempio il prestito interbibliotecario che lo considero uno dei servizi per quanto riguarda il sistema bibliotecario trentino più importanti sicuramente all'avanguardia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti